Un viaggio emozionale alla scoperta di luoghi, sapori, tradizioni di una terra di straordinaria ricchezza che può contare su numerosi attrattori di rilevanza naturalistica, culturale, spirituale oltre che luogo di produzioni enogastronomiche d'eccellenza. La troupe della popolare trasmissione di viaggio e turismo di Rai 2, Sereno Variabile e il suo conduttore Osvaldo Bevilacqua è tornata ieri in terra d'Arneo per girare una nuova puntata dedicata al Salento, promossa dal gal Terra d'Arneo. La conoscenza di questo territorio, sospeso tra terra e mare, non si esaurisce con la chiusura della stagione estiva. Nuovi scenari e possibilità si aprono per tutti coloro che desiderano visitare quest'area e scoprire l'entroterra con i suoi valori autentici, la vocazione rurale e la magia dei centri storici. In programma anche la visita ad una masseria didattica dove ogni giorno bambini e ragazzi si confrontano con le lavorazioni tradizionali, riflettori puntati sui riti di una tradizionale vendemmia salentina e sulle antiche pratiche di produzione dell'olio. Il tour, inoltre, ha fatto tappa negli affascinanti centri storici dei comuni dell'Interland per esaltarne le bellezze architettoniche e per scoprire le tradizioni religiose e popolari fortemente radicate nella cultura locale. Poi una sosta presso una torre costiera di recente ristrutturazione, un'antica masseria, i musei del vino e tanto altro. A completare il ricco programma, la presentazione di piatti tipici a base di prodotti di terra e di mare a cura di docenti e alunni dell'Istituto Alberghiero.